Buonasera, tra poco il telegiornale con subito la notizia che rischia di compromettere quei timidi segnali che erano arrivati, sono arrivati oggi in giornata sulle due crisi che hanno sconvolto gli ultimi giorni con minacce, ritorsioni, atti di guerra. Qual è la notizia? È il fatto che secondo fonti del Pentagono, secondo fonti americane, l'aereo ucraino, quello che è precipitato mentre decollava dall'aereo di Tehran, in realtà non è caduto per un guasto ma è stato, ripeto, secondo fonti americane abbattuto da due missili antiaeree iraniani. Ora qui, poi, anche nel corso del telegiornale, ma nei prossimi giorni e non solo noi qui nel telegiornale, bisognerà capire possibile un errore? È stato un atto invece minaccioso per far capire siamo pronti a tutto e questo appunto è la questione fondamentale, anche perché lo vogliono sapere, sicuramente è avanzata una richiesta ufficiale, vogliamo le prove, ha detto il governo ucraino, ma lo chiedono anche gli Stati Uniti e le Nazioni Unite. Dall'altra parte l'Iran nega responsabilità, nega che ci sia stato il lancio di missili antiaerei, tra l'altro, insomma, provocando vittime civili, era un volo di linea, quindi un aereo colpito, un aereo che non era militare. L'Iran nega, dice noi non c'entriamo assolutamente nulla, era in fase di rientro, deve aver avuto problemi, ma l'Iran ha anche negato l'invio delle scatole nere alla Boeing, cioè la casa produttrice dell'aereo, lì si potrebbero capire tante cose. Questo è quello che è successo nelle ultime ore, è quello che dicevamo può compromettere quei piccoli passi, segnali di dialogo che stavano arrivando sulle due crisi. Innanzitutto in Iran, in Iran ci sono segnali di dialogo, beh sì, dalle Nazioni Unite, sia il rappresentante iraniano sia quello americano hanno detto siamo pronti a confrontarci, sì, non vogliamo fare atti di guerra, ha detto il rappresentante iraniano, siamo pronti al dialogo, ha risposto. Ma poi c'è stato Trump, il presidente americano, che già ieri aveva detto noi comunque andiamo avanti con le sanzioni, oggi confermate sanzioni che inizieranno e saranno pesantissime. Quindi insomma non sarà facile, discorso uguale e analogo vale per l'altra crisi che sta spaventando il mondo in questi giorni, la crisi in Libia. Cosa è successo? Che il governo nazionale di Tripoli ha detto sì all'invito al dialogo arrivato dal vertice di ieri, Putin e Erdogan, i due punti ormai di riferimento importanti per i due contendenti nell'area e quindi Al-Sarraji ed Haftar. Sì al dialogo per cominciare, come richiesto e sollecitato da Russia e Turchia, una tregua a partire da domenica. Ma in realtà poi in contraddizione con questo arrivano notizie di altri scontri, soprattutto lo stesso Erdogan si è un po' smentito oggi dicendo noi andremo avanti fino alla vittoria finale e soprattutto ha attaccato in maniera molto pesante il vertice di ieri al Cairo, quello tra l'altro dove rappresenta anche il ministro degli esteri italiano Di Maio, dicendo appunto non erano presenti né Libia né Russia, insomma definendolo un vertice farlocco. Parleremo di politica, politica italiana, perché? Perché naturalmente il governo, la maggioranza, il governo si sta occupando, c'è una frenetica attività anche diplomatica di cui vi daremo conto, superate o comunque vi renderemo conto anche delle polemiche rispetto al mancato arrivo ieri di Al-Sarraji a Roma. Ma insomma poi c'è importante l'ultimo sondaggio prima del voto in Emilia-Nomagna. Ci sono cose molto interessanti, alcune conferme ma altri dati davvero tra poco. Li sentite nel telegiornale, partiamo tra 30 secondi con i titoli. Il Boeing ucraino caduto mercoledì con 176 persone a bordo nei pressi di Teheran sarebbe stato abbattuto dai missili sparati dalla contraerea iraniana per errore, così fonti del Pentagono riportate dalla stampa americana. Teheran nega e parla di ipotesi senza senso. Per Trump qualcuno certamente ha commesso un errore alle Nazioni Unite, intanto Teheran lancia segnali di distensione nei confronti degli Stati Uniti, dopo la vicenda sulle mani. In Libia la situazione resta incandescente, nonostante la proposta di Putin a Erdogan per un cessate il fuoco. Il governo di Tripoli ha accettato la tregua, ma ora è il generale Haftar a non fermare la sua offensiva. Si continua a combattere a Sirte, mentre gli aerei dell'uomo forte della Cirenaica avrebbero colpito misurata roccaforte delle forze fedeli al premier Al-Sarraji. E sulla crisi in Medio Oriente vertice tra Conte e Di Maio, rientrato dagli incontri in Turchia e in Egitto. Domani il premier riunisce maggioranze d'opposizione per cercare una linea unitaria sulle missioni militari all'estero. A Palazzo Chigi intanto ha iniziato il vertice di maggioranza sulla prescrizione, tema sul quale restano i contrasti tra 5 Stelle da una parte e Partito Democratica, Italia Viva dall'altra. Ed è in bilico la richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari, dopo che quattro parlamentari di Forza Italia hanno ritirato la firma. Ora non c'è il quorum necessario per sottoporre il quesito in Cassazione. La maggioranza intanto ha depositato la proposta di una nuova legge elettorale con una soglia di sbarramento al 5%, contrari, liberi e uguali. E a 18 giorni dal voto il nostro ultimo sondaggio per la poltrona di governatore in Emilia Romagna indica che restano vicinissimi i numeri di Stefano Bonaccini, sostenuto dal centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, che è la candidata del centrodestra. Tutti i numeri tra poco, compresi quelli delle coalizioni che sostengono i diversi candidati, anche quelli delle altre liste. Dopo 40 anni è arrivata la sentenza di primo grado per l'ex terrorista dei NAR, Gilberto Cavallini, condannato all'ergastolo al processo sulla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza non cancella gli 85 morti e i 200 feriti, ma rende giustizia a noi, commento dei familiari delle vittime della strage. Buonasera, e allora non è stato un incidente, ma l'aereo ucraino precipitato, mentre era in fase di ricollo dall'aeroporto di Teheran, è stato abbattuto da due missili della contraerea iraniana. Ricordiamo, era un volo di linea, c'erano a bordo 176 persone, tutte morte. Inizialmente si era parlato di un incidente, di una manovra, mentre l'aereo cercava di rientrare all'aeroporto per un probabile guasto ad un motore. Invece, secondo fonti del Pentagono, secondo fonti americane, i missili avrebbero colpito il Boeing, il jet, l'aereo ucraino. Nega Teheran, che dice che sono tutte invenzioni, ma non consegna le scatole nere alla Boeing, la società che ha costruito l'aereo e che potrebbe ricostruire esattamente tutte le fasi dell'incidente, del presunto incidente. L'aereo ucraino non è precipitato per un guasto tecnico, ma è stato abbattuto. L'emittente CBS e Newsweek lanciano l'indiscrezione su ciò che sarebbe accaduto al Boeing 737 dell'Ukranian Airlines, diretto a Kiev e schiantatosi al suolo ieri mattina, poco dopo la partenza dall'aeroporto di Teheran, provocando 176 morti. Entrambi i media americani riportano fonti dell'intelligence statunitense, del Pentagono e dell'intelligence irachena, con cordi nel sostenere che sarebbero stati intercettati dai satelliti segnali di uno o due missili terraria, forse di fabbricazione russa, lanciati dall'Iran e poi il rumore di un'esplosione. Forse qualcuno ha commesso un errore, ha commentato al presidente americano Trump, quasi a voler ribadire che l'abbattimento dell'aereo civile non è stato un atto intenzionale, ma un tragico sbaglio che sarebbe costato la vita a tutte le 176 persone a bordo. Nel giallo, per la caduta del Boeing, l'ipotesi del malfunzionamento dei motori diffusa nelle ore immediatamente seguenti alla sciagura dal governo iraniano sembra dunque perdere consistenza. Il governo ucraino ha chiesto all'ONU sostegno incondizionato per arrivare alla verità. I membri della Commissione di Stato giunti a Teheran intendono cercare prove sul luogo del disastro. Al di là dei controlli di manutenzione recenti effettuati sull'aereo, che non avevano rilevato particolari problemi ad alimentare i dubbi, che contribuisce, il rifiuto annunciato da Teheran, di spedire la scatola nera al bus recorder recuperate dai soccorritori alla casa di produzione per decifrare i dati. Entrambi i dispositivi sono stati danneggiati dalle fiamme e dall'incidente, si legge nel rapporto preliminare iraniano. Sulle parti della memoria di entrambe le scatole nere sono visibili danni fisici, ma altri dubbi riguardano la dinamica dello schianto. L'aereo si è alzato a un'altitudine di 8.000 piedi prima di sparire dagli schermi di radar e cadere al suolo. Secondo alcuni esperti è sospetto il modo in cui le comunicazioni tra l'aereo e le torri di controllo si sarebbe interrotto bruscamente poco dopo la partenza e anche le fiamme che avrebbero avvolto l'aereo prima della caduta farebbero pensare all'impatto. Con un missile rispetto a queste indiscrezioni, Teheran replica. Voci che non hanno senso, dice il capo dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran e vice ministro dei trasporti Abezaed. Numerosi aeree erano in volo contemporaneamente nello spazio aereo iraniano alla stessa altezza. La storia dell'attacco non può essere vera. E queste le due versioni. Quel che è certo è che questo incidente o presunto tale rischia di compromettere quelli o di pesare su quelli che erano i primi oggi tentativi di dialogo. O in particolare alle Nazioni Unite, i due rappresentanti dell'Iran e degli Stati Uniti avevano rilasciato dichiarazioni che andavano in questo senso. Anche se, sempre oggi, sulla bilancia dobbiamo mettere altre dichiarazioni che non vanno nel senso del dialogo e che vi dobbiamo riferire pure perché da una parte c'è il presidente americano Trump che conferma che le sanzioni saranno inasprite e saranno durissime nei confronti dell'Iran. E rispondono gli iraniani tra l'altro con l'ambasciatore in Italia che afferma che ogni negoziato sarà possibile solo nel caso di un ritorno degli americani all'accordo nucleare e la cancellazione di ogni tipo di sanzione. Dopo i venti di guerra soffiati nei giorni scorsi nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti oggi la parola d'ordine è una sola. The escalation. La progressiva riduzione delle tensioni tra i due paesi. Il mondo intero ascolta ancora scioccato le dichiarazioni di apertura di Donald Trump che dopo aver ordinato l'uccisione del generale sulle mani ha assicurato che l'Iran non avrà mai l'atomica finché lui sarà il presidente americano e ha annunciato nuove durissime sanzioni tende la mano a Tehran a cui offre la pace e la promessa di negoziare un nuovo accordo sul nucleare. A questo proposito oggi il vicepresidente Mike Pence intervistato da Fox News ha annunciato che Trump contatterà presto i leader degli stati europei che nel 2015 firmarono l'intesa sul nucleare iraniano affinché ne escano così come hanno fatto gli Stati Uniti. Ma la diplomazia dei 28 si esprime in altri termini. Nella lettera indirizzata al presidente iraniano Hassan Rouhani, il capo del Consiglio europeo Shalmishel ha chiesto a Tehran di preservare quell'accordo evitando azioni irreversibili. Nel pomeriggio al telefono con lo stesso Michel però, Rouhani ha invitato l'Europa a prendere posizioni indipendenti da Washington, a suo dire responsabile di azioni terroristiche e di aver violato la legge internazionale assassinando il generale Suleimani. Anche il premier italiano Conte si è sentito con Rouhani. Tra i temi affrontati, la situazione nella regione e lo stato delle relazioni bilaterali. Provocatorio e sproporzionato, così la speaker della Camera e dei rappresentanti Nancy Pelosi ha definito l'attacco aereo ordinato da Trump che ha messo a rischio gli americani senza neppure informare preventivamente il congresso. Perché non accada di nuovo, la Camera vota in queste ore una risoluzione che obbliga la Casa Bianca a fornire tale informazione quando ci sia il rischio di un conflitto. In una lettera alle Nazioni Unite, l'Iran ha assicurato il pieno rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iraq dopo l'attacco contro i soldati americani nelle basi irachene. L'Arabia Saudita ha rinnovato gli appelli alla moderazione da tutte le parti. Quanto alla richiesta di Trump di un maggiore coinvolgimento della Nato in Medio Oriente, il segretario generale Jens Stoltenberg ha assicurato che l'Alleanza Atlantica valuterà cosa fare di più. Come avete sentito, indicazioni contrastanti che arrivano anche riguardo la crisi libica. Perché? Perché inizialmente, in mattinata, c'era stata la reazione del governo nazionale, quello di Tripoli, che aveva accettato l'invito arrivato da Erdogan e Putin, da Turchia e Russia, a accettare le condizioni di un dialogo e compresa tregua a partire da domenica. Questo era successo e questo ci dava l'indicazione, come dicevo, di un inizio, avvio di dialogo dopo gli scontri anche pesanti degli ultimi giorni che vi abbiamo raccontato, attacchi, uccisioni. In realtà, poco fa, poco più di un'ora fa, ha parlato il generale Haftar, il comandante delle truppe ribelli, e ha detto, per quanto mi riguarda, la tregua non vale. La notizia, tanto temuta quanto prevista, è arrivata pochi minuti fa. Il generale Haftar ha respinto la richiesta di cessato il fuoco avanzata ieri da Turchia e Russia. Scontri e minacce non si erano infatti placati. L'aeroporto di Mitiga, l'unico ancora attivo nella capitale libica, è stato comunque oggetto di nuovi raid aerei da parte dell'aviazione del generale Khalifa Haftar, con il supporto degli Emirati Arabi. Il portavoce dell'esercito nazionale libico ha annunciato l'estensione del divieto di sorvolo sull'aeroporto, avvertendo le compagnie aeree ad attenersi severamente al provvedimento per non mettere in pericolo i loro passeggeri. Si combatte su più fronti. Oltre a Tripoli e Sirte, la città natale di Gheddafi, asserragliata dall'esercito di liberazione nazionale di Haftar, ora anche misurata, città alleata del premier Serraj, sarebbe sotto attacco. Gli aerei del generale della Cirenaica avrebbero compiuto sei raid contro l'Accademia d'aviazione della città. Ma come spesso accade in questa guerra che va avanti da nove mesi ormai e che anche è tanto mediatica, la notizia è stata poi smentita dalle forze del premier. I dispacci emanati dai due eserciti nemici annunciano e smentiscono, si combatte anche a colpi di fake news. Quel che è certo è che il generale Haftar cerca di guadagnare più terreno possibile, almeno prima della mezzanotte di domenica, quando dovranno cessare i combattimenti, secondo quanto richiesto dal suo alleato russo. Ora non è chiaro quello che succederà. Quel che è certo è che laddove la diplomazia non era ancora riuscita, hanno potuto gli affari. Erdogan e Putin, protagonisti indiscussi nello scacchiere delle influenze e delle alleanze in Libia, che sul campo si trovano su due fronti contrapposti. La prima a sostenere il generale Haftar, la seconda all'esercito del premier Serraj. Ieri a Istanbul hanno concordato il cessato il fuoco poco prima di inaugurare il gasdotto Turkish Stream, che permetterà ad Ankara di acquistare l'oro blu a prezzo agevolato. Intanto l'Europa cerca di riconquistare una posizione di peso. Gli appelli al cessato il fuoco sono arrivati dal presidente del Consiglio di Sicurezza, Charles Michel, e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, dopo l'incontro con il premier Serraj volato a Bruxelles. E sulla crisi libica si sono confrontati nel pomeriggio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Sapete ieri l'attività, i vari incontri diplomatici, alcuni saltati che hanno quello con il primo ministro libico, che non è venuto a Roma, irritato per la presenza di Haftar, che ha provocato, dicevamo, le ironie e durissime reazioni da parte delle opposizioni e anche da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Attività diplomatica del governo che va avanti in serata, Conte vedrà il ministro dell'interno libico. Un faccia a faccia dopo il pasticcio diplomatico di ieri, il gran rifiuto del premier libico Al Serraji, che ha disertato l'incontro con Conte a Palazzo Chigi, dove era appena stato il generale Haftar, suo cerimo nemico. Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno fatto il punto su un dossier libico sempre più caldo per l'Italia, con il ministro degli esteri appena rientrato a Roma dal suo giro diplomatico fra Turchia e Nordafrica. L'Italia deve avere un ruolo di facilitatore e mediatore. La Libia è per il nostro paese un tema di sicurezza nazionale, sottolinea Di Maio, invocando una voce unica dell'Europa che ponga freno alle interferenze dei singoli stati per arrivare ad un embargo totale sulle armi. Di Maio invoca per l'Italia il gioco di squadra, riferimento alle critiche dell'opposizione, che domantina alle 9 sarà ricevuta, assieme alla maggioranza da Conte a Palazzo Chigi, per un vertice sulla situazione in Medio Oriente, con un occhio particolare alle nostre missioni militari. Ma gioco di squadra che forse ieri non ha funzionato, visto l'esito di una giornata che doveva rappresentare è un successo per il Governo e si è risolto in un mezzo flop, con voci, non smentite, di contrasti tra lo stesso Ministro degli Esteri ed il Premier. Tra i due un chiarimento necessario, prima di riimmergersi nelle dispute puramente nostrane, a cominciare dalla prescrizione, tema al centro stasera dell'ennesimo vertice di maggioranza. Conte si è impegnato a trovare un compromesso tra le esigenze dei Cinque Stelle, che difendono la riforma del Ministro della Giustizia Bonafede, entrata in vigore a inizio anno, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado e le altre forze politiche che chiedono tempi certi per i processi. Compromesso non facile, visto che per il Movimento, che aveva voluto la norma nel DDL spazzacorrotti al tempo del Governo gialloverde, si tratta di un tema identitario. Così come la revoca delle concessioni autostradali, altro tema molto divisivo per la maggioranza, con i renziani pronti alle barricate contro la revoca e al centro di una breve riunione a Palazzo Chigi, smentita l'ipotesi di una maximulta d'aspi al posto della revoca. Movimento che ha bisogno di battere colpi in un momento di grande fibrillazione. Oggi altri due deputati, Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri, hanno lasciato il gruppo Cinque Stelle per passare al misto. Forse in vista di una nuova formazione guidata dall'ex ministro Lorenzo Fioramonti, che sotto Natale ha lasciato governo e movimento. Proprio oggi, tra un vertice e l'altro, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto per dividere in due il di Castero lasciato libero da Fioramonti, con l'istruzione che andrà alla Cinque Stelle Lucia Azzolina e l'Università e la Ricerca, destinati a Gaetano Manfredi, presidente della conferenza dei Rettori. Giureranno domani al Quirinale. E allora, proprio per tutti questi impegni, e come vi abbiamo detto, presentando il servizio appena andato in onda, anche Conte vedrà in serata rappresentanti, il ministro dell'Interno, da quelli che saputi, del governo libico di Tripoli, e per l'aggiornamento quindi all'attività che riguarda la crisi libica, quello che è stato detto, l'appuntamento previsto tra il presidente del Consiglio, Conte e i parlamentari di maggioranza e opposizione sulle crisi libica e Iraq, e in generale anche su tutte le missioni militari, si è appena saputo da fonti parlamentari, quindi non è Chigi, ma insomma sono fonti credibili, secondo questa agenzia è appena uscita, che la riunione non si terrà più domani, ma è slittata alla prossima settimana. Fitta l'agenda del governo, fitta l'agenda della maggioranza, con partite a scacchi, che si giocheranno in questo mese, che possono pesare sulla tenuta della maggioranza, una riguarda il taglio dei parlamentari. Qualcuno ci ripensa e così slitta domani pomeriggio l'annunciata presentazione delle firme dei senatori in Cassazione per il referendum sulla riforma costituzionale, quella che ha ridotto di un terzo il numero dei parlamentari. Sono quattro senatori di Forza Italia, area Carfagna, ad aver ritirato le firme all'ultimo minuto. Ne servono 64 per indire il referendum. Anche qualcuno del PD potrebbe ripensarci, ma altri sei nomi si sarebbero già aggiunti ai firmatari, secondo i promotori. Il tempo utile scade il 12 gennaio, ma c'è di mezzo il weekend, e domani dunque o la va o la spacca. Il gioco delle firme è più che sul merito della riforma, che quasi certamente sarebbe confermata nelle urne di un eventuale referendum. Sembra legato tutto a calcoli di opportunità politica. Molti dei firmatari pensavano di allungare i tempi della legislatura in caso di referendum in primavera. Votare prima confermerebbe un Parlamento di 945 eletti già cassato dalla riforma, e lo stesso Quirinale potrebbe frenare sull'ipotesi di eleggere nuove camere sovradimensionate rispetto alla deliberazione dello stesso Parlamento. Ma vale anche il ragionamento opposto e la convenienza dei più al voto anticipato prima del referendum per suddividere una torta più grande di eletti. Tanto che per destabilizzare la legislatura, la stessa Lega, fautrice della riforma taglia eletti, sarebbe ipotizzando di aggiungere le sue firme per il referendum confermativo. Che farebbe il paio con quello del carroccio proposto da otto regioni e al vaglio il 15 gennaio della consulta per abolire la quota proporzionale della legge elettorale? Esattamente il contrario della proposta di legge è impronta puramente proporzionale, seppure con soglia di sbarramento alta al 5%, concordata dalla maggioranza litigiosa su ogni altro tema, con l'intento di tagliare le unghie a Salvini e a un centrodestra più forte con il maggioritario. D'accordo PD e 5 Stelle, ma anche Italia Viva è contraria solo l'EU per lo sbarramento irraggiungibile per la sinistra radicale. Proposta di legge depositata e da calendarizzare lunedì alla Camera. Quasi un monito alla consulta alla vigilia del suo pronunciamento perché non dia il via libera al referendum leghista di impronta opposta e tutta maggioritaria. Insomma, torna incandescente in questo gennaio la materia delle riforme, un grande gioco in corso sul tabellone della politica che incrociandosi con le tante emergenze e soprattutto con il voto regionale del 26 gennaio vede in pario le stesse sorti della legislatura. E già gli stessi diretti interessati lo hanno detto da una parte e dall'altra, maggioranza e opposizione. Il passaggio del 26 gennaio sarà importante e molti dicono anche decisivo per quanto riguarda la maggioranza, per quanto riguarda il governo, per quello che otterranno i candidati, per come andranno le coalizioni, per come andranno le liste. Allora, a 18 giorni dal voto noi vi facciamo vedere gli ultimi sondaggi che abbiamo e che vi possiamo proporre. Allora, innanzitutto cominciamo con i due candidati principali alla vittoria, coalizione centrosinistra e coalizione centrodestra, Bonaccini e Borgonzoni. E come vedete, in testa, di due punti, la forchetta è di quattro punti, ma di due punti, quindi 49 a 47, quindi Bonaccini sfiorerebbe il 50%, ma è in testa, in vantaggio, di due punti rispetto alla rivale, la leghista Lucia Borgonzoni. Un margine, quindi, è un testa a testa, possiamo dire. Peseranno i voti degli altri? Sicuramente, da quello che si vede, insomma, il candidato del Movimento 5 Stelle otterrebbe un risultato piuttosto basso e che quindi questo, insomma, ne dovrebbero tener conto quelli dei 5 Stelle, Simone Benini. Ma vedete che per quanto riguarda gli altri siamo tra il 0 e 0,2, quindi un margine molto ridotto. Lì c'era, anche se non mi ricordo male, il dato degli indecisi. No, lo vediamo dopo. Intanto queste sono le liste. Attenzione, come vedete, coalizione si ribalta esattamente la situazione. Coalizione Borgonzoni, centrodestra, in testa e sfiora il 50%. Coalizione Bonaccini leggermente indietro, anche più indietro rispetto a quella del candidato. Come vedete, non arriva la forchetta a 47, 43, 47, ma a 42, 5, a 46, 5. E questo è un dato. Dentro quello, andate a vedere, la Lega otterrebbe, sta a cavallo del 30%. un risultato sotto le due cifre otterrebbe Fratelli d'Italia. Forza Italia si attesta tra il 3 e il 5 e poi la lista del candidato. Dall'altra parte, Partito Democratico tra il 23 e il 27, lista Bonaccini, quindi la lista del candidato. Vedete quanti voti prende in più quanto è importante il peso del candidato governatore per quanto riguarda il centro-sinistra e poi gli altri, Europa Verde più Europa. Ma andiamo a vedere l'altro cartello, questo che vi dicevo, in testa, il risultato del Movimento 5 Stelle e questo risultato davvero sarebbe un colpo molto importante al Movimento 5 Stelle. Insomma, davvero un tracollo rispetto agli ultimi appuntamenti elettorali, anche quelli amministrativi. Ma sotto, in piccolo, l'ultimo, poi andiamo avanti, non la tiro ancora per lunga. Vi faccio vedere, indecisi il 18%. C'è un grande attenzione, una grande voglia di partecipazione rispetto ad altri appuntamenti elettorali. Gli indecisi non sono tantissimi, sotto il 20%, ma in quel 18%, vista il margine nelle liste tra i candidati evidentemente saranno decisivi. Questo era il dato che vi dovevamo per quanto riguarda le elezioni. Vi ricordo anche, insomma, ma già lo sapete, il direttore già l'ha annunciato, potrete eseguire il voto in Emilia Romagna e in Calabria con la maratona mentana. Ma adesso noi parliamo di... Cavallini. Della sentenza che è arrivata e riguarda il processo sulla strage di Bologna 2 agosto del 1980, è stato condannato l'ex terrorista NAR all'ergastolo in primo grado. Cavallini. C'è un quarto uomo del gruppo neofascista dei NAR ora condannato all'ergastolo in concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980. Gilberto Cavallini, 67 anni, il negro, ex terrorista dei nuclei armati per la rivoluzione, lascia l'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Bologna intorno alle 15 un'ora prima che i giudici entrino per leggere la sentenza. Marina Gamberini e lei in questa foto è sopravvissuta a quella strage 85 morti oltre 200 feriti morirono anche le sue colleghe del ristorante della stazione in cui lavorava. Insieme ad altri familiari partecipa a tutte le udienze. È successo tanto però è durissima. Sicuramente è il momento in cui finalmente capiamo che il nostro sforzo qualcosa è servito. Per la strage erano già stati condannati in via definitiva come esecutori materiali gli altri ex NAR Francesca Mambro Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini. Cavallini già condannato a otto ergastoli per altri omicidi che sta scontando la pena nel carcere di Terni in regime di semilibertà nella strage di Bologna fornì supporto logistico agli altri componenti della banda. Si occupò dei documenti falsi e del trasporto a Bologna da Treviso dove li ospitava. Stamattina aveva reso dichiarazioni spontanee. Io sono pentito di quello che ho fatto di quello che non ho fatto non mi posso pentire quindi io anche a nome dei miei compagni di gruppo non abbiamo da chiedere perdono a nessuno per quello che è accaduto in questa città il 2 agosto 1980 anzi ribadisco il concetto espresso da Francesca Mambro che qui a Bologna non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi. Il processo a Cavallini è durato due anni 50 circa i testimoni sentiti perizie sull'esplosivo e sul DNA di una delle vittime il suo avvocato annuncia che farà appello per Paolo Bolognesi il presidente dell'associazione delle vittime della strage dopo questa condanna c'è ancora tanta strada da fare. Questo processo che sicuramente apre la strada anche per diciamo così per un gradino più alto andiamo oltre verso i mandanti mandanti della strage rapporti dei narco i servizi deviati dello Stato ci sono altri misteri che avvolgono questa pagina nera della storia italiana è arrivata oggi la conferma che il premier britannico Johnson Boris Johnson ha deciso di far uscire il Regno Unito anche dal progetto Erasmus lo sapete quello che riguarda storico programma di scambio tra gli studenti europei scatterà ha detto Johnson appena sarà in vigore la Brexit questione che è stata definita con una netta bocciatura è stata definita con una netta bocciatura di un emendamento alla legge di ratifica ha provocato diverse polemiche questa decisione soprattutto colpisce insomma va a colpire gli studenti europei gli spostamenti degli studenti europei sicuramente non è stato in queste ore però il principale argomento di discussione in Gran Bretagna si parla dei reali della regina Elisabetta molto arrabbiata la regina sarebbe sconvolta i futuri re Charles e William feriti a 20 giorni dalla Brexit i cittadini del Regno Unito assistono sbigottiti ad un altro strappo quello dei duchi di Sussex che vogliono mettere per buona parte dell'anno un oceano tra sé e la Royal Family un passo non inaspettato anche per come andavano le cose negli ultimi mesi con i tabloidi che avevano preso di mira Meghan Markle e l'insofferenza che lei e il principe Harry dimostravano nei confronti dei rigidi protocolli di corte ora non sembra più un caso che abbiano passato il Natale in Canada e non a Sandrigan con la regina e il convalescente 98enne nonno Filippo non è sembrato neanche un caso che la sovrana abbia tenuto il discorso di fine anno nel quale ha ricordato con affetto l'arrivo dell'ultimo pronipote Arci seduta ad una scrivania dalla quale mancava proprio la foto dei Sussex i due duchi hanno spiegato di avere da tempo l'idea del trasferimento ma pubblicare sull'account Instagram della coppia la decisione di rinunciare al ruolo di Royal Senior pur continuando a servire la corona soprattutto nei paesi del Commonwealth ha spiazzato la regina e la famiglia gli addetti stampa e social media manager di palazzo semplicemente perché i due duchi non hanno avvertito la sovrana che i manieri dei Windsor stessero sempre più stretti ai duchi era evidente anche per come i tabloidi continuavano a sparare a palle incatenate sulla moglie borghese come Kate Middleton del resto ma che a differenza della perfetta futura regina è divorziata afroamericana ex attrice e senza troppi timori reverenziali in queste ore su quei manieri hanno ripreso a volteggiare i fantasmi di un'altra americana divorziata Wally Simpson e di un'altra donna perseguitata dai tabloidi la cui morte ha segnato profondamente il principe Harry nel messaggio i duchi hanno spiegato di voler vivere il loro ruolo in maniera progressista lavorando e rendendosi indipendenti qui però arrivano le note dolenti il principe che ha un patrimonio personale composto anche dall'ascito della madre riceve dalla regina due milioni di sterline l'anno ha appena finito di restaurare il Frogmore Cottage per viverci con Meghan e Arci un lavoro da due milioni e mezzo spesi dai contribuenti che gli pagano anche la sicurezza saranno ancora contenti di mantenere un reale e dopo il telegiornale Lilly Gruber ospiti di otto e mezzo ci sono Massimo Franco Andrea Scanzi e Luigi Marattin a seguire torna Piazza Pulita con Corrado Formigli ci sono Gad Lerner Pierluigi Bersani Lorenzo Fioramonti Carlo Calenda Mattia Sartori Giulio Sapelli Antonio Padellaro Guido Crosetto noi ci rivediamo dopo la pausa con i dati dei mercati di nuovo in studio per andare a vedere se quanto le notizie del dialogo di almeno un abbassamento dei toni nelle due crisi libica e iraniana hanno inciso sui mercati e vediamo che effettivamente c'è un segno positivo quindi i mercati credono al all'inizio un avvio di dialogo di soluzione nelle due crisi che hanno fatto tanto paura nei giorni scorsi lo spread 160 punti base e invece per quanto riguarda gli Stati Uniti allora abbiamo Wall Street che più o meno in linea con Milano segna un più 0,67 il Dow Jones Nasdaq allo 0 più 0,71 adesso è davvero tutto buon proseguimento a l'anno a l'anno a a l'anno a